Perlomeno qua siete ancora fortunati, perché qua io dico abbiamo perso soprattutto quelli che stanno nelle città, è drammatico, veramente drammatico, non hanno più i suoni base, che sono i suoni della natura, è l'acqua calda, i suoni della natura rigenerano, ma veramente hanno delle frequenze straordinarie, canti degli uccelli, grilli, cicale, questi sono suoni che rigenerano, perché? Allora passiamo ai suoni acuti, audiologi come Alfred Tomatis, che è stato uno dei grandissimi audiologi, non mi sta facendo una ripresa? No, 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 io sto facendo foto.